Mi presento, sono Giorgia Maniscalco e lavoro l'ospedale Cardarelli di Napoli e non è un modo di dire se vi dico che veramente la mia vita, ok, io più qua, ok, troppo, poco spazio, ok, e che veramente la mia vita, lo dico sempre, ma è la verità, è professionale, è cambiata da quando ho incontrato Sara, tutto il suo gruppo, che mi ha permesso poi di svolgere al meglio il mio lavoro, di conoscere queste patologie che vedete adesso, sono rare ma verosimilmente insomma non così tanto e dobbiamo comunque tutti quanti imparare a gestirla. Qual è l'argomento che mi è stato chiesto di affrontare? I sintomi che sono importanti, perché sono importanti? Perché rappresenta la gestione della vostra qualità di vita, devo fare un mea culpa diciamo riguardo noi medici, molto spesso siamo molto focalizzati sulla malattia, sul meccanismo di malattia, avete visto oggi come è stato ben spiegato dai miei colleghi, e sui, quindi le terapie che correggono il meccanismo che ha generato la malattia. Però un po' spesso può accadere che, come dire, siamo un po' meno attenti ai sintomi, non tanto all'esordio della malattia, perché questi sintomi ci servono a fare le diagnosi, quanto qualche volta nel cronico vedete che insomma per noi la malattia va bene, ok, è andata bene, è andata bene, invece è importante ascoltarvi. C'era il mio maestro che diceva, ascolta il paziente, ti sta suggerendo la diagnosi. Allora la cosa importante è questa, perché abbiamo scelto tutti noi la neurologia? Perché è una materia speciale, rispetto agli altri, cui non so, lo pneumologo, tosse, è sempre lo stesso sintomo, eccetera, noi neurologi invece abbiamo quello che noi chiamiamo la sede lesionale, cioè voi, il paziente ha un sintomo, e noi possiamo risalire più o meno alla zona interessata, quella che è la sindrome, e questo a noi serve molto, serve per fare la diagnosi, per classificarvi, per, come dire, stabilire poi un corretto trattamento eventualmente del sintomo. Quindi intanto noi siamo una categoria un po' speciale da questo punto di vista. Il sintomo a noi neurologi dice molto, veramente tanto, su dove è il processo. E poi, questo invece poi è qualcosa che noi dobbiamo rompere, no? Il glossario. Cioè ci sono una serie di sintomi che per noi, no? Utilizziamo queste parole così complicate. Mi viene in mente, per esempio, quelle che noi chiamiamo parestesie. Voi le riferite come un senso di bruciore, un senso di formicolio, eccetera. Per noi è il senso che la via che porta alla sensibilità è alterata, generalmente, come dire, irritata più che deficitaria. E quindi quelle che per voi sono una serie di sintomi molto soggettivi e che spesso vi affannate a spiegarci nel dettaglio, molto spesso poi per il neurologo, come dire, sono tutti quanti ascrivibili a un solo tipo di sintomo, però ci danno un'informazione molto importante. Quindi la prima cosa che dobbiamo fare è imparare a comunicare. Ma questo è un monito per noi, non per voi. Nel senso che è molto importante che noi medici riusciamo a tradurre bene quello che voi ci dite. E poi cerchiamo di andare a vedere, ovvio che noi adesso non è che possiamo trattare tutta la maria di sintomi neurologici che noi ci troviamo a dover trattare, però ci sono delle peculiarità. Per esempio, gli encefaliti autoimmuni, generalmente, noi ci troviamo sempre davanti a tanti sintomi insieme. Difficilmente il paziente ha un solo sintomo. Questo vi fa capire anche la complessità della gestione. E questo vale per tutti i sintomi di cui vi parlerò. Come vi ha ampiamente dimostrato il mio collega precedentemente, il trattamento della malattia è il trattamento che agisce anche sul sintomo. Quindi generalmente i sintomi regrediscono man mano che noi combattiamo con i farmaci che vi sono stati già indicati precedentemente la malattia. Però accade anche che residui qualche sintomo. E in questo caso, allora, per noi è importante utilizzare anche i farmaci sintomatici. Io molto spesso per fare l'esempio e fare la differenza tra un farmaco sintomatico e uno che noi chiamiamo in maniera difficile patogenetico, vuol dire che agisce sul meccanismo di malattia, faccio sempre l'esempio della polmonite. Se io ho la polmonite o la tosse. Ora, se io utilizzo lo sciroppo per la tosse, io sto gestendo solo il sintomo tosse, ma non sto agendo sul processo che la determina, che invece per esempio la polmonite, quindi devo fare l'antibiotico. Ebbene, quindi noi distinguiamo quella che adesso vi è stata presentata, che è la terapia che genera la malattia, quella immunologica, da quella invece sintomatica, che però è altrettanto importante, perché è importante gestire il sintomo. Uno dei sintomi più importanti sono le crisi epilettiche nelle encefalite autoimmuni, però noi in questo siamo abbastanza fortunati rispetto a epilessie di altra natura, perché tende questa epilessia a regredire man mano che l'infiammazione si riduce. E spesso siamo costretti, tra virgolette, nella fase acuta a dover utilizzare farmaci in vena, quindi sono antiepilettici importanti, però esiste anche un altro aspetto importante, questo lo dovete sapere, per qualcuno è accaduto, per altri fortunatamente no, però l'epilessia può essere talmente elevata che il paziente può andare in rianimazione, più che rianimazione si dice terapia intensiva, cioè lì noi riusciamo ad agire con i farmaci antiepilettici e mantenendo però le funzioni vitali del paziente in attesa che la terapia funzioni. Però in genere l'epilessia risponde bene, quindi noi siamo, riusciamo non immediatamente, ma gradualmente nel tempo, penso che abbiamo capito che uno dei fattori importanti in queste malattie è il tempo, ok? Abbiamo bisogno di tempo, tempo perché le terapie e l'immunoterapia funzioni, tempo anche perché man mano possiamo ridurre i farmaci per l'epilessia, per esempio in questo caso, ovviamente ognuno di noi si deve regolare in base a delle cose, che sia il tipo di anticorpo, se ci sono alterazioni in risonanza, insomma cose mediche che però ci permettono molto, in una grandissima percentuale di pazienti, di poter eliminare poi nel tempo questa terapia. Oppure le encefalite vengono con disturbi diciamo del comportamento, no? Possono esserci comportamenti strani, agitazioni, quelle che noi chiamiamo psicosi, diceva oggi il dottore Ferrari, è importante, spesso noi dobbiamo interagire con gli psichiatrici, perché magari sono i psichiatrici i primi ad essere chiamati in causa. Ed è molto importante, quindi anche in questo caso spesso cercare di sedare una brutta parola, però di ridurre questi comportamenti, perché considerate che serve anche a noi per poter curare, no? Se un paziente è agitato, io non riesco a fare la terapia, io quindi ho bisogno un attimino di poterlo tranquillizzare. Utilizzando una serie di farmaci, anche in questo noi dobbiamo stare attenti, deve esserci una sedazione ma non troppo profonda, insomma ci sono tutta una serie di regole, tra virgolette, che noi dobbiamo rispettare. Oppure possono esserci delle alterazioni del movimento, movimento più o meno involontario, che può essere presente, può essere presente a un art o a più arti, e che appunto non sono sempre controllabili subito dall'immunoterapia, quindi in tal caso anche qui esistono tutta una serie di farmaci specifici che servono per il tipo di movimento, il disturbo del movimento che è presente. Oppure disturbi del sonno. Per noi è molto importante il sonno, non solo perché può essere un sintomo di encefaliti, ma perché il paziente che riposa, il riposo riduce il rischio di crisi epilettiche, migliora tutto quello che possono essere anche disturbi del comportamento, quindi può essere molto importante per il neurologo gestire questo aspetto, che anche se sembrerebbe prettamente sintomatico, in realtà ci aiuta anche in altri aspetti. Invece nelle MOGA dell'NMOSD, beh, qui qualcosa in più noi l'abbiamo. Intanto dobbiamo dire che spesso le due patologie hanno dei sintomi simili, quindi non è sempre semplice già l'esordio e solo in base al sintomo poter classificare un paziente in una o nell'altra patologia. Però è anche vero che rispondono anche questi in buona parte alla immunoterapia, cioè quella terapia sul sistema immunitario, anche se può essere variabile, e che quindi anche qui in questo caso possono esserci dei sintomi, diciamo così, cronici. Quali sono i sintomi? Ebbene ce lo dite voi, perché adesso cominciano a esserci dei lavori che finalmente danno voce ai pazienti. Per esempio questo è un lavoro in cui i pazienti hanno risposto a dei questionari, non riesco, che cosa ho fatto? Ho avuto l'autodistruzione? Non lo so, ok. E comunque dai questionari emerge che cosa? Vi traduco dall'inglese. Uno dei sintomi più importanti è la fatica, quel senso di stanchezza, ce lo diceva anche Elena, io mi sento stanco, stanco, stanco. Oppure il dolore, dolore, dolore alla schiena, dolore agli arti, ok? Oppure vedremo altri sintomi legati al tono muscolare, oppure disturbi, noi li chiamiamo sfinterici, cioè dello svuotamento della vescica, oppure anche diciamo dei disturbi di tipo fecale, della gestione. Dolore neuropatico è molto molto frequente, vedete, guardate che frequenza, nell'emosdia arriva quasi all'80%, è un, generalmente, noi abbiamo a disposizione tutta una serie di farmaci per gestire questo dolore e quindi è importante parlarne con il neurologo. Ovviamente anche noi ci regoliamo in base al tipo di lesione, il dolore generalmente è maggiore a chi ha l'età maggiore, insomma ci sono tutta una serie di elementi, ma soprattutto non solo, diciamo di scelta anche poi da parte nostra per il tipo di farmaco giusto. Arriviamo poi alla spasticità, che è più rara, più rara che in altre forme di malattie ed eminorizzanti, ma può esserci. Che cosa è la spasticità? Abbiamo messo quell'omino di legno, cioè una rigidità che io sento, il muscolo è molto, molto, molto contratto. Anche qui esiste tutto un protocollo, intanto sicuramente alla base del trattamento c'è la fisioterapia. È molto, molto importante ed è un aspetto che bisogna tenere sempre in considerazione. Senza la fisioterapia la gestione della spasticità non può proprio dirsi tale. Poi ovviamente c'è lo step superiore, esistono dei farmaci, ulteriori step in centri grandi come i nostri ospedali abbiamo dei medici che riescono a iniettare localmente, quindi noi lo chiamiamo trattamento focale, cioè un trattamento del singolo muscolo che ha questa rigidità, che ha questa spasticità, fino a complesse condizioni più complesse in cui il farmaco viene iniettato direttamente all'interno della spina dorsale. Ma questo per dire che è un sintomo, ci può essere, ma c'è ovviamente un adeguato trattamento. I disturbi vescicali sono molto più frequenti di quelli che normalmente anche il paziente dice perché c'è sempre un po' di timore, infatti noi dobbiamo essere molto bravi a chiederlo. Tra l'altro per noi è importante perché ci può dare quella che è la zona, la sede, ci può dare delle informazioni importanti quando voi venite per la prima volta da noi perché la presenza o no di disturbi, chiamiamoli sfinterici o vescicali, ci dice dove può essere localizzata la lesione. Perché? Perché vedete sulla sinistra, quella è la vescica che voi vedete, si riempie, ma la vescica è controllata essenzialmente da tre centri, uno è qui a livello frontale, uno a metà del cervello, si chiama troncoencefalo, ma soprattutto a livello midollare. Ora oggi voi avete imparato che la malattia NEMEOS-D, MOGAD, può avere queste lesioni pignollari. Ebbene, se è colpito questo centro, io ho disturbi nel riempire e svuotare la vescica. Ed è questo uno dei disturbi più frequenti. Cioè una vescica che cosa fa? La vescica si riempie, è un contenitore, poi a un certo punto c'è un segnale che dice al nostro cervello guarda è piena, è piena, è piena, devi andare a svuotare, devi andare a fare la pipì. Ora, se c'è un'alterazione di questa, del controllo di quello che abbiamo visto precedentemente, può succedere che la vescica sente di essere piena anche se non lo è. È sempre piena. Allora io devo correre nel bagno sempre e non svuoto bene, perché comunque nel frattempo può subentrare un'alterazione dello svuotamento. Questa si chiama urgenza menzionale, può esserci, se c'è voi dovete parlarne con il medico. Noi medici ve lo dobbiamo chiedere, ma se non ve lo chiedono, ditelo, perché ci sono tante opportunità. Opportunità che sono sia farmacologiche, come vedete, sia con farmaci, anche qui troviamo la tossina, ma esistono anche tutta una serie di trattamenti, che viene definito biofeedback, o comunque la riabilitazione del pavimento pelvico. Esistono tutta una serie di soluzioni che saranno adatte al caso, io direi, alla persona. E poi un accenno rapido, rapido alla comorbidità. Che cosa vuol dire comorbidità? Vuol dire avere un'altra malattia. Beh, che cosa succede se io ho un'altra malattia? Talora per noi medici può essere un problema. Talora poi vedremo un aiuto. Quando è che è un problema? È un problema raramente di tipo assoluto, come controindicazione. Cioè, raramente è un problema tale che ci vieta di fare un trattamento. Però ci dice cautela, dovete essere attenti. Per esempio, se sono diabetico e devo fare il cortisone per un periodo lungo, può essere difficile, o comunque io, medico, devo cercare di ridurre il più possibile. Stessa cosa vale per la pressione. Oppure ancora ci sono dei farmaci sintomatici, che però agiscono sulla condizione cardiaca, quindi se ci sono persone che hanno problemi di cuore. Questo parliamo sempre, ovviamente, di fasce di età più avanzate, perché è ovvio che nei giovani la comorbidità è pressoché zero, almeno per quella che noi definiamo comorbidità non autoimmune. Dobbiamo stare attenti se il paziente ha avuto una storia pregressa oncologica, perché dobbiamo essere attenti se bisogna utilizzare o no l'immunosoppressore in cronico. E poi dobbiamo essere molto attenti. Oggi noi parliamo molto con gli infettivologi, oltre che per le diagnosi, per escludere. Noi parliamo molto con gli infettivologi perché usiamo dei farmaci che abbassando un pochettino il sistema immunitario li possono esporre a delle infezioni, quindi deve essere fatto un programma vaccinale giusto. Deve essere fatto un programma che possa mettere in sicurezza l'utilizzo dei nostri farmaci. Infine, la presenza di comorbidità autoimmune. Questo è un elemento molto importante, a cui io tengo molto, e che però da un certo punto di vista ci aiuta. Perché? Perché spesso le malattie autoimmune non vengono mai da sole, perché lo dicevamo della pistola carica. Io tendo ad avere una tendenza all'autoimmunità. Quindi può accadere che io abbia più di una malattia autoimmune. Alcune malattie autoimmuni, per esempio l'NMOSD associata ad antiacquavorina, tipicamente associata ad altre malattie sistemiche, quelle reumatologiche, quelle curate da reumatologi. Però perché è importante per noi? Perché questo ci fa scegliere, per esempio, uno degli elementi che ci fa scegliere un farmaco. Di tutti i farmaci che vi ha fatto vedere il dottore Seghie, alcuni hanno anche indicazione per la malattia neurologica. Capitete bene, si suol dire prendere due poccioni con una fava, io utilizzo un solo farmaco che magari vada bene con più patologie. E quindi, perché abbiamo parlato di sintomi in una giornata come questa? Perché di sicuro la cura della malattia è la terapia, l'immunoterapia, come vi è stato precedentemente detto. Però noi dobbiamo curare i sintomi, perché noi non curiamo né gli esami neurologici né le risonanze. Noi curiamo le persone. E voi dovete avere la migliore qualità di vita possibile. E ringrazio veramente tutti, perché immaginate che veramente è una condizione. È veramente un esempio di multidisciplinarità. Sto da veloce? Ok.